Comunque, ti volevo dire, a parte che prima ho fatto un dissings a tiktok Mamma mia, non mi parla di tiktok, per forse sì, non ho parlato di tiktok Perché? No, non voglio parlare di tiktok, stamattina mi sono appiccicata Cos'è successo? Ma là ci sta, non si può dire cazzo, non si può dire figa, non si può dire questo Poi ci stanno le ragazze con il culo da fuori, minorenne, che dicono Sono una 2008, lui mi dice così Mi ha detto, no ma sono troppo piccola, mettono le foto con il culo così Mettono le foto così, e così, eccola E poi mi banno, ma a me è una live, che io mi sono acceso una semplice sigaretta Che in Italia è legale la nicotina Perché loro non sanno stabilire con un IP che io mando la trasmissione dall'Italia Non sanno stabilire che io fumo una sigaretta in Italia che è legale Che è legale, fumare una nicotina È legale, hai più di 18 anni, sì è legale Ho più di 18 anni, sta scritto Il fumo può recare gravamente alla salute a te, ai minorenni Ai minorenni, no ai spettatori, minorenni Ai minorenni Ha specificato, minorenni Sì sì, ma poi se tu scrivi, attenzione, ma poi tu non dici fumate le sigarette Ma lo sai cosa, la cosa più grave? È che io ero in streaming, ok? Un mesetto fa E sono entrato nelle live di TikTok e mi hanno cacciato Cacciato i TikTokers perché sbavavo Sbavavo Aspetta un attimo, stavo a Mergellina a Napoli Live, il, faccio così, inquadro la strada Atti pericolosi Il tuo accanto rischia il ban Non si Ho inquadrato la strada, vai giù, ma stiamo scherzando E poi ci sono le donne mezze nude Che fanno milioni di follows E i minorenni che fanno casino e non ci si dice niente No No, prima stava uno in live che sparava i fuochi d'artificio Pensa un po' Pericolosi, stanno sparando tipo i track, trick track Bomba a mano, bomba a mano Secondo me, Gennà, io non so perché Però secondo me non va bene questo social Allora, io non lo direi È una brutta parola da dire Però è un po' troppo Cioè, impostano troppe regole che non hanno senso Ma a me mi hanno bloccato un TikTok Come ti faccio vedere? Ti faccio vedere? Un TikTok così Con la lingua così Come il tifoso del NAP Come Mertens Ok, così? Vuoi sapere perché me l'hanno bloccato? Ecco qua, vedi? L'hanno bloccato? Rimosso per nudità e attività sessuale che inconvolgono adulti Attività sessuali Con la lingua da fuori E scusami, e scusami E poi hai visto quelle che fanno Aspetta, aspetta, che non ti sento Aspetta Ho scaricato le cuffie A qualcuno nella chat ha fatto sesso, dicono A qualcuno della mia chat dicono Quel TikTok di Gennaro mi ha fatto sesso, dicono Esagerati, mamma mia No, ma ci sono Guarda, io vedo tante A me a volte mi compaiono Le ragazze col culo di fuori E che se lo facciamo noi E non si può fare Oppure lo devi caricare dieci volte Non è giusto, non è giusto sta cosa Non è giusto Però vabbè Io voglio prendere le difese Di tutti Dai, alla fine Noi non stiamo andando contro gli altri Che fanno i contenuti Stiamo andando contro TikTok Perché noi facciamo le nostre cose E ce le buttano giù E allora va a mok Scusami Va a mok Ma non tiene assolutamente senso sta cosa Perché alla fine È una piattaforma per tutti Io sto da TikTok Quando si chiamava Musical.ly Non so se ti ricordo Io da quando si chiamava Vine Un altro Sì, mi ricordo Musical.ly Ancora prima si chiamava un'altra maniera Sì, ma era un altro Era un altro Comunque si chiamava Musical.ly Infatti i miei primi TikTok Se tu dovevi vedere Proprio quei vecchi, vecchi Sì, erano Musical.ly Eh ma erano solo il fatto che tu Prendevi una canzone tipo Che ne so Il tuo rosso relativo E cantavi solo Imitando la bocca Così erano i TikTok di prima Non c'era niente Ma invece Però ho visto Attenzione, attenzione Però Gennaro Ho visto che il Gennaro Ballerino Ha fatto Esploso su TikTok Ah sì, ho fatto Scriviti bom 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 Scriviti ben 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 Scriviti bom 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 Scriviti Sì, yes, 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 yes Eh quello Posso dire Quello mi piace Perché mi strappa un sorriso Grazie Davidone Ma è quelli di TikTok Che vogliamo vedere Non vogliamo vedere Ok, a me Mi fa piacere vedere Culi E tutto quanto Ok Però io credo Che una piattaforma Adatta Perché ci c'è C'è YouPorn C'è Ci sono altri siti Che ora non voglio nominare Perché Però Gennaro Se tu guardi Le pubblicità Che fanno Sono Nella storia del mondo Della tv Di internet Alcune Sono tutte allusire al sesso Per cui un social Senza le allusioni al sesso Non va avanti Perché è il motore Che fa andare avanti Il cash Ma che dici Ma io ho visto Un TikTok Che non Aveva 200 milioni Di views Questa ragazza Con le tette da fuori Non avevano segnali Se tu non segnali Non ti blocca Il TikTok Capite che è successo È andato viralissimo Poi l'hanno bloccato Sicuramente Ma io Però hai capito Intanto 200 milioni Di persone L'hanno visto però E io ho visto Lo sai cosa Mi compare su Instagram L'amica di Alex Di Alex Mucci Che è la moglie di Marra Eva Menta Mi compare sempre Con questi Con questi capezzoloni Di fuori E il top A rete Allora ho detto Grazie Pisfro Ho detto Ma non è censurata E si vede tutto Ah Non c'è spazio più Per l'immaginazione Questo è un po' Da boomer Però io ho detto A sto punto Lo sai cosa faccio A sto punto Gennà Se voi Quando ci vediamo Lo facciamo insieme Ci mettiamo anche noi Il top a rete Senza niente sotto E facciamo Iniziamo a fare anche noi Le foto così Così No no però Del cazzo facciamo noi Del cazzo Le palle Capito Facciamo vedere Le semi palle La semi capocchia La cappella viola Così si emozionano Però attenzione Non è un discorso Contro le ragazze Che fanno così È che Anch'io vorrei fare così Però Col cazzo Io posso dire una cosa Forse mi vergognerei un po' No no Io non lo farei mai Forse Cazzo pescato a rete Lo chiamiamo No no Davo a finire Che succede Un bordello Un bordello Comunque Ti va di fare Di fare una challenge Una challenge Tipo quale? Ci facciamo Facciamo entrambi Lo stesso TikTok Che ti dico io Tanto è molto facile Sì E poi vediamo Quale Quale ha fatto Più numeri E Chi vince Magari domani O dopo domani E regala Cinque sub All'altro Ma facciamo pure Di Cappella Sei sicuro di vincere Facciamo pure 15 Facciamo 20 Facciamo 20 Va bene 20 Grazie Facciamo 20 Allora Gennà Dammi un secondo Che prendo La Coca Cola E faccio pipì Pensavo la Coca Cola No Ma sì Ma se Gennà Ormai Il meme Da 4 anni Se facevo uso Tutte le serie Di che me lo dicevano Stavo così Ah no Tu non mi vedi Stavo Non credo Che stavi così Con stavi Tipo Non credo Che A parte che Sarei senza soldi Senza una casa Però Allora Dammi un secondo Ragazzi Un secondo Che devo far pipì I'm sorry Ok Arriva Arriva Vai ti aspettiamo Ringrazia pure Sab Chiunque Ringrazia Fai Sentiti Vabbè Ok Grazie Grazie per i sab Grazie Ragazzi Grazie Tiktok Voglio Ma lascia Stare Tiktok Non è cosa Proprio Non è cosa Proprio Ma Stamattina Mi ha già appiccicato Con Tiktok Stamattina Non litigato Con Tiktok Stamattina Non è una cosa Proprio Come sempre Anche stasera Caffè offerto Un bacio Ti voglio bene Sei la nostra compagnia Grazie Amico Minore 3 Grazie Giù Grazie 1100 bit Grazie Ciao Ciao Modificati Ciao Da un po' Che non vengo Nella vostra live No ma io Stamattina Stamattina Ma mi sentite Ma mi sentite bene Ragazzi O non mi sentite La sedia Eccomi maestro Ah Stavo dicendo Stamattina Ho fatto una live Su Tiktok Vai Ok Non si può dire Neanche Twitch Non si può dire Cazzo Non si può dire Niente Poi vedo Delle live Che minacciano Che Dicono cose Cbagliatissime Fumano Con 3-4 mila persone live Capito Non ha senso Eh Lo so Secondo me Ma sto mondo Mi metto a fare Videoporno Aspetta Si sente Si sente un po' Ma l'aspetta Genna Prova a parlare Ora non ti sento più Ora non ti sento più Non ti sento proprio più Adesso mi senti? Adesso ti sento Sì 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 Aspetta che ti abbasso un po' Eh L'unico problema di questo Coso di Twitch È che l'audio non si sente Troppo 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 Mi senti bene Mi senti bene adesso? Si sente come se fosse Un pelino doppio Però vabbè Non so Eh Vabbè Non so Vabbè Sti cazzi Sti cazzi Aspetta Aspetta che cambia Il microfono No ma non è un problema Non è un problema Adesso mi senti meglio? Sì sì Dai dai Va benissimo Va benissimo Fa un po' Fa un po' Come cazzo gli pare Fa Grazie Allora Dite a te te Di iscrivervi a Rise Allora Eh ma questa cosa Della web I spettatori La vedono? Eh Guarda la mia streaming Da me Da me ti vedono eh Porca puttana Da me ti vedono Ti vedono? Eh ma da me mi vedete? Da me vedete omi? No non vedete omi No perché ti ho invitato io Ah ok Quindi se ti invito io Ti vedo poi E ora Sì Ma ora funziona bene Non so perché ora Sei ritornato a funzionare bene Con l'audio Grazie Allora serve Perché mi hanno sparato Un bang nelle orecchie Forse si sarà sbloccato Allora Genna serve Grazie a car per l'anno Allora serve Eh Chiedo anche Sia alla tua Che alla mia chat La canzone che fa Bang 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 Skididi bang Però il remix Quello dove fanno le facce Eeeh Uuuuh Che re Che re Calmatevi Calmate Grazie ragazzi Allora Questo qua non va bene No No Serve il remix di questo Aspè Ma la trovo io Ma la trovo io Che ha un nome molto strano Eh no Ma che cazzo Che vai il lavorario Con lo cordello Che non mi uscire Uno 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 mostro Un animale Uno lupo Non lo dai Bella lì Ecco a te ti banano Per questo Ma questo è divertente Eccolo aspetta Aspetta questa è Ok Ah capito Bravo bravo Che così è semplice Grazie E ci facciamo la sfida Grazie Ok ma ma con la pancia Ma se tu usi la pancia Sicuramente vinci No 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 Senza pancia Allora la faccio Senza pancia No no Allora dipende Se vuoi diventare virale Nel mondo E allora lì giochiamo Su dei campionati diversi Dipende se tu vuoi Vuoi tutto il mondo Vabbè dai Fallo così Che almeno Se fai 10 milioni di views Almeno sono contento Ti ho fatto Sì con la pancia Sì con la pancia Non ti preoccupare Ah beh beh Ci provo 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 Saremo rieti Di ospitarlo Per scogliere un documentario All'interno della fiera Grazie Beh me lo mandi su isla Su whatsapp Ti mando questo che ho Ok aspetta Aspetta Dammi un secondo Così Whatsapp Gischianto nuovo Sta citando No Non sto citando Ok ok Così dovremmo farlo Più o meno Perché è questo che va Che va Più o meno Segue chat Ma che Devo seguire E chattare Ma che No no Non seguire Questo qua Ah boh ma che se ne ha sceme Ma guarda Eh però fidati Fidati Cioè ma come può funzionare Ora che fa Schipiti Eh ma a quanto pare Ma scusami Come può funzionare Uno che fa Schipiti Dom Dom O anche Son gigetto Al 50 anni Il fisichetto Come può Aspetta vedo se c'è No che non c'è nessun altro Vai Io non so però Come mettere il filtro Io non sono capace Come si mette il filtro Tu sai come si mette il filtro Da chat Sì sì Filtro lo so Aspetta Però che dobbiamo fare Dobbiamo usare questo suono qua Sì sì Usa questo suono Allora giriamo la fotocamera Potrebbe essere un po' Basta che metti effetti A me ha messo un effetto strano Pur eyes Occhi puri Metto occhi puri A me me l'ha messo pur eyes Sì Ma da come un suo bello Anch'io Ma sembra un po' Oh una donna Vabbè Ci drogiamo eh Ma vai Vado di là nell'angolo eh Perché vado di là nell'angolo Perché c'è la luce Così metto la luce in faccia Ma vai No devi fare qua E allora sposto la luce Sposto la luce qua Aspetta a farlo eh E poi guardati la mia live Che così te la ridi Aspetta Ok Vai vediamo Attento che piglia la correndo Ma che sto facendo Oh Non sto ancora Tommy che fai Piglia la correndo Che cos'è sta cosa Ma la sera Fai esercizi su questa luce Eccomi Gennaro Hai avuto paura No no Ma questa è una forma fallica No ma che forma Ma che Ma ti pare Che forma fallica Hai visto nella vita Gennaro No no Vabbè però E' una forma strana Potrebbe piacere Alle ragazze Dare piacere Ah Ah si Eh si Con una doppia Inquadratura Mettiamola così Potrebbe piacere Potrebbe piacere Una doppia Inquadratura Bravo Non ce l'avevo pensato Potrebbe piacere Forse potrebbe Allora Inizio io Inizio te Ma io non so neanche Che devo fare E devi fare Con le labbra E basta Anch'io devo far così O se no Vuoi farlo con la pancia E ti metti più lontano E ti metti lontano E magari cammini Come Facendo cose Non lo so Non ti sento Dai però Tu mi senti Ti sento Ti sento Grazie Rise Anzi no Aspetta Allora Mettiamo il timer Tre secondi Ma nel caso Non stavo Ma nel caso Vabbè Io Ma devo farlo Vabbè Vabbè No Aspetta Aspetta Ma che ho fatto C'è qualcosa Che non va Va bene così Secondo me Vabbè Secondo me Allora Dipende da te Secondo me Può andar bene Però dipende Vabbè È buona la prima Vabbè 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 Ma è un muto l'audio Vabbè Vabbè Sembra un budino Allora Buona la prima Pure tu È la prima Devi fare Pure tu Fammi vieni Vieni Allora Aspetta Fammi prendere un filtro Vi serve il filtro Da Chad Aspetta Aspetta Giga Chad Eccolo Vado Vai Sono un po' Imbarazzato Però Vabbè 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 Sembra che c'era Vabbè Deciderano Buona la prima Che dite Buona la prima Buona la prima Ho sentito una scoregina Goliardi Allora come lo chiamiamo Doveva mettere i stessi hashtag Il stesso titolo Come lo chiamiamo Eeeh Bella domanda Buona la prima No 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 Mettiamolo in inglese Perché tu vai viral in tutto il mondo No vabbè Che viral Quando ma Chissà se va a viral Secondo me fa 20.000 views Massimo Eeeh Metti Metti gli hashtag Che di quel Vai avanti Hashtag Scrivi di Pappa Treyeye Scrivi Scrivi Bom Bom Eeeh Scri No Come l'hai chiamata tu maestro Quella lì che hai fatto con la pancia Eh io ho messo Hashtag viral Hashtag viral Ok Poi Viral che c'ha 13.000 Biliardi di views Ok Poi ho messo Hashtag Mi sembra Eeeh Per te Scrivi per te No F-I-P F-G-P F-Y-P Ah Ma hai messo Sare le tattiche Eh sì sì Eh sì Sì c'ho le tattiche Per farle andare virale E poi Scrivi Scrivi Vuoi hashtag Nei per te Metti pure E poi Scrivi di Bop 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 Eh ok Aspetto Quello non lo so Come si scrive E se scrivi 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 Michele Scriviti Dob Dob No Che cazzo Qual è l'hashtag Vai giù Scriviti 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 Bob Dob Bob Scriviti 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 Eh ma non c'è Un hashtag Guarda Aspetta Te lo scrivi In chat Te lo scrivi In chat Che me l'hanno scritta A me Scriviti Bob 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 No Sì Sì Questo qua Vedi No Milioni Sì bravo Sì bravo Quello ho messo io Bravo 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 Vai Ok E il titolo Dobbiamo mettere Il titolo Chi menzioniamo Uno l'altro Menzioniamo Menzioniamo Kaby Lame Kaby Lame No se no Non menzioniamo nessuno Non menzioniamo nessuno Scriviamo Kaby Lame Kaby Lame Kaby Lame Eccolo qua Bob 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 Sì Sì Allora poi Il titolo Il titolo Ah Non era questo Il titolo Titolo Buonanno Il titolo Mettiamo Gli hashtag E i tag Mettiamo Che titolo Mettiamo In inglese Zulul No Che se magari Si può offendere Cavi Mettiamo Eh non lo so Mettiamo Mettiamo We We love You We Love You Eh non lo so Così si scrive Boh E non vedo We Love Sì perfetto Perfetto Ok Siamo pronti 3 2 2 2 1 1 Pubblica Ok Guarda Oh Guarda Anche a farla apposta Guarda qua Anche a farla apposta Oh Neanche a farla apposta Mamma mia Aspetta un attimo Mi aspetta Fa mettere la musica Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ah Gennaro Guarda Ho criticato tanto TikTok Allora Vuoi fare Una cosa Goliardica Sì Lo faccio Una volta Ogni tanto Però secondo me Ma quanto tempo Gli diamo Al TikTok Allora io gli direi 24 ore 20 Allora tanto Facciamo No C'è Almeno 24 ore Per andare a vitale Allora facciamo O alle 20 E 17 Di domani O alle Domani Alle 4 Ci vediamo qua Ok Dai Va bene Alle 8 Ci vediamo qua Va bene Va benissimo Vi No 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 Go